Cerchio e Seno attraverso NT 29 aprile 2023 Scusami, il tuo sentimento religioso è cambiato da quando eri incarnato? Diciamo che ora vedo le cose in modo diverso. Cioè, la Chiesa è depositaria di verità, è vero, ma è anche depositaria di cose negative, terrene. Sia la mia Chiesa che quella cristiana. La Chiesa cristiana ha tradito gli insegnamenti di Gesù e ha travisato il suo messaggio d'amore. Tanto è vero, non voglio essere blasfemo, per carità, perché sto parlando di Chiesa essendo io stato uomo di Chiesa, mi rendo conto che ora la Chiesa pensa solo al potere terreno. E quel poco che rimane di spirituale lo travisa pensando che tutto è dovuto alla Chiesa. Ma loro se ne rendono conto? Questo basta che apriate gli occhi, guardate il momento che state vivendo, c'è guerra. E la Chiesa cosa fa? Una parte parteggia per guerra e una parte è contraria, vero? Sì. Pensate che confusione ideale. E in questo caso soltanto l'evoluzione individuale può portare a miglioramento. Grazie. Da Svidania. Ciao. Ciao, grazie. Commento. Sembra che questa entità, conosciuta come il Pope, si sia manifestata presso il circolo del medium romano Demofilo Fidani. Non è stata ancora fatta la domanda di conferma. Non è stata ancora fatta la domanda.